Prendiamo per malo, vieni qua, guarda. Facciamo per malo, facciamo un cerchio, andiamo indietro. Groppo, 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 ok. Perfetto così, lascia la mano, no no è giusto, lasciamo le mani, ok. Esatto, prendiamo un pallone e iniziamo a fare un giocchino facile, facile, facile. La palla fa un passaggio su alcuno, a chi vuole, ok. E corro velocissimo a prendere il posto del compagno di un'altra. Io palla, la passo a lui. Prendo velocissimo il suo posto, tu fai un passaggio a chi vuoi, prendi il suo posto, ok. Batti dunque. Ok, adesso arrivo, vio. Parla il tuo posto. Dai, cambia ti. No, là, la stai posto. Dai! Veluca! Dai! 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 Dai, vai! e devi correre pure al posto suo ok ma dove l'hai tirata? vai a prendere il posto di prima tira poi scappa ok ok prendiamo ok e perché sentiamo in giro vedi? tiriamolo anche di l'acqua non sei arrivata qui non sei arrivata qui vieni tu al posto di riccardo aspettiamo la palla e poi non è arrivata qui non me la sentite di nuovo eh non me la sentite di nuovo eh io te la ripasso man mano che calciate fuori andate a prendere la palla e la riportate qua ok? chi è il prossimo? in fondo alla fila quando avete calciato da lì in fondo alla fila dai una bomba bravissima ecco la mia però aspettiamo il doppio dai dai fai in parte la prova prendiamo per malo iniziamo fai un giocatore un giocatore allora aspetta guarda guarda che cosa devi fare vai doppi la palla e tu vabbè aspetta giocate con più palloni perché mi ascio due palloni ok? uno mettilo dietro la rete ok vai giocate con due palloni vai no 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 vai sempre riusciti da testa quando hai piedi da tutti tocca all'altro no 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 solo un giocatore ora no 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 va